Il preso di Catellum è peggio del Porcellum e questo lo sappiamo tutti. Cerco di dirvi il perché. Si tratta di una vera e propria lotteria nella quale il voto di un elettore può incidere sull'elezione di chissà chi altro candidato. Vi faccio un esempio. Sardegna 2, elezione 2013, utilizziamo l'Italicum. Il Movimento 5 Stelle col 33% dei voti non prende neanche un seggio e la lista Monti con meno del 6% prende un seggio. Ciò significa che il cittadino va a votare sperando di eleggere un candidato di un partito che vota. In realtà il suo voto va da tutt'altra parte che in chissà quale collegio all'interno del territorio nazionale. Significa che il voto di un cittadino non vale nulla. Se a ciò aggiungiamo che i due condannati Renzi e Berlusconi che hanno scritto questa legge fuori dal Parlamento hanno trovato un accordo sul limitarla esclusivamente alla Camera, vedete come da domani si potrà andare a votare con una legge elettorale alla Camera ed una legge elettorale al Senato, alla faccia di Renzi che fino a ieri ha ribadito che è necessaria una legge che dia a un vincitore la sera stessa delle elezioni. In realtà qua ci sarà una legge che darà un vincitore alla Camera e una legge che darà un vincitore al Senato e noi aggiungiamo che è anche incostituzionale tutto ciò. Noi siamo invece quasi pronti a depositare la proposta di legge elettorale del Movimento 5 Stelle che trasformeremo in emendamenti da depositare in Aula. Questa è la nostra differenza da loro.